Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi, come vedete, cambio di location, sono a casa dei miei genitori e approfitto di questo momento, prima del pranzo, per girare un nuovo video. Di cosa parleremo oggi? Oggi ho deciso, visto che sono a casa dei miei, di farvi vedere 5 titoli della libreria della mia mamma che io vorrei leggere, quindi 5 libri che fanno parte della sua collezione ma che un giorno spero di poter leggere anche io perché so che, insomma, si tratta di titoli molto validi che alla mia mamma sono piaciuti tanto e su molte cose io e lei combaciamo a livello di gusti letterari. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Allora, mi sono accorta che forse c'era un po' di luce soffusa perché ho beccato l'unica giornata della settimana in cui è tutto nuvoloso fuori. Non che mi lamenti, eh, perché abbiamo avuto delle giornate belle calde però, insomma, la luce non è ottimale quindi ho acceso quella della stanza. Allora, il primo libro che vi mostro è Io sono mio fratello di Giorgio Panariello. Quindi potrebbe sembrare una lettura, insomma, diciamo che chi è un lettore forte di solito non legge molto spesso libri di non scrittori, quindi di personaggi famosi che in qualche modo decidono di raccontarsi attraverso un libro. Io però sono molto curiosa di leggere questo libro, prima di tutto perché la mia mamma quando l'ha comprato me ne ha parlato veramente molto bene. Panariello è originario di Prato, se non erro, dovrebbe essere proprio Prato. Quindi, insomma, la stessa città dove è nata la mia mamma. Quindi lei ha un legame particolare con questo comico e personaggio televisivo, attore, presentatore, insomma, è veramente sempre stato molto amato da lei e dalla nostra famiglia. In questo libro lui si mette proprio a nudo e racconta la sua storia, quindi come è cresciuto, chi l'ha cresciuto, perché lui non è cresciuto con la propria mamma, ma con i propri nonni, che l'hanno, lui dice, mi hanno adottato. Quindi, insomma, è stato cresciuto dai nonni perché la mamma era una ragazza madre che non era in grado di prendersi cura di questo bimbo. Ha avuto una vita sicuramente particolare, dove non è stato avvantaggiato o comunque raccomandato da nessuno, una vita in cui il successo che ha avuto è riuscito ad ottenerlo grazie veramente al proprio talento, al proprio impegno. E in questo libro racconta tutte le tappe della sua vita, come ha capito di voler fare questo lavoro, come sono nati i suoi personaggi più famosi, quindi non so, la Signora Italia o il Bagnino, Mario, insomma, chi più ne ha più ne metta, ce ne sono veramente tanti, Renato Zero, quindi come sono nati questi personaggi e, insomma, lui, diciamo, tira un po' le somme di quella che è stata la sua vita, consapevole anche delle fortune che ha avuto rispetto a suo fratello, perché per l'appunto lui parla anche di questo fratello con il quale per l'appunto condivide il sangue, ma che ha avuto un destino e una vita completamente diversa da quella che ha avuto lui. Inoltre aggiungo che io ho visto da poco su Netflix uno spettacolo che lui ha fatto sempre a Prato, credo, o a Firenze, insomma, uno spettacolo veramente molto recente, perché parla anche di fatti veramente di poco tempo fa, come ad esempio che la Melonia è diventata presidente del Consiglio, quindi uno spettacolo recente nel quale ripercorre per l'appunto tutta la sua vita. È uno spettacolo bellissimo, se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo, perché lui parla di tutta la sua vita con una vena molto malinconica. È uno spettacolo che fa ridere e fa commuovere, perché lui chiaramente parlando dei vari personaggi poi li reinterpreta, o comunque ci sono delle gagne anche molto carine, dei monologhi davvero divertenti che fanno proprio svellicare, però ci sono dei punti in cui lui è molto introspettivo e ricorda degli avvenimenti del suo passato da una parte con profonda gratitudine verso tutti coloro che l'hanno aiutato ad avere il successo che ha raggiunto, e dall'altra anche con la malinconia per le cose perse o per certi avvenimenti che sono accaduti. Parla per l'appunto, anche se in maniera molto breve e alla fine, anche di suo fratello. Io davvero ho finito di vedere lo spettacolo con le lacrime agli occhi. Quindi lui è una persona che si è proprio messa a nudo, molto umana e quindi credo che recuperare il libro mi aiuterà anche a entrare ancora di più in questa sua umanità. Il secondo titolo che la mia mamma possiede e che vorrei leggere è L'inverno dei leoni. In questo caso però lei non l'ha letto e la cosa vi farà sorridere perché praticamente io avevo letto il primo, questo come sapete è il secondo volume della saga dei Florio. Il primo è L'inverno dei leoni, no, perché è questo. Il primo è, ora mi sfuggio, ho proprio un vuoto mentale. Vediamo se ce la faccio. I leoni di Sicilia, ok? Questo è il secondo volume. E per l'appunto io stavo leggendo I leoni di Sicilia e le raccontavo che mi stava piacendo veramente tanto. Lei è andata in libreria per comprare quel volume e visto che i titoli sono simili, le copertine sono simili, insomma ha preso questo che è il secondo. E quindi ha recuperato anche il primo, non sono neppure sicura se l'abbia letto o no, comunque il secondo era già nella sua libreria. Lei ancora non l'ha letto, ma lo leggerà e lo farò anch'io. Non l'ho letto semplicemente perché è un po' bello cicciotto, quindi aspetto un momento in cui so di avere del tempo da dedicargli. Quindi io conosco la storia, diciamo, di base, cioè l'inizio della storia di questi Florio che è una famiglia che è tuttora in Sicilia e che gestisce delle cantine appunto che commerciano poi insomma con tutto il mondo. È una ditta florida e importantissima, riconosciuta proprio a livello mondiale. Nel primo volume si parlava dell'inizio appunto di questa famiglia, di come da Napoli si trasferì in Sicilia e di tutto il lavoro che i vari membri della famiglia hanno fatto per riuscire poi ad arricchirsi piano piano e a diventare persone di spicco nel commercio siciliano e non solo. E questo quindi è insomma il proseguo della storia. Molti di voi l'avranno letto, è una storia molto conosciuta, quindi io spero di recuperare presto anche questo secondo volume perché la scrittura è bellissima, i personaggi sono interessantissimi, l'epoca storica è anche questa molto interessante, quindi insomma lo voglio assolutamente leggere. Per quanto riguarda l'epoca storica, magari vi faccio un cenno, vediamo se riesco a trovare. Ecco praticamente si parte dal 1868 e si arriva fino a, ormai ve lo cerco, al 1950, quindi siamo veramente molto vicini all'epoca moderna. Il terzo libro che ha la mia mamma, che vorrei leggere ma che ho paura di leggere, è Alfredo di Valentina D'Urbano. Perché ho paura di leggerlo? Perché questo libro è in realtà una nuova versione del libro Il rumore dei tuoi passi, appunto di Valentina D'Urbano. Allora, lei ha scritto Il rumore dei tuoi passi, un libro che mi ha straziato il cuore, ci ha preso il cuore, me l'ha fatto a pezzetti e l'ha lasciato lì a sanguinare. Veramente, Valentina D'Urbano è un'autrice eccezionale, io l'adoro e effettivamente in tutti i suoi libri lei riesce davvero ad emozionarci anche in maniera molto forte proprio perché, insomma, non racconta storie semplici e storie spensierate. Ecco, molto spesso sono anche storie belle, dure e profonde. Quindi, nel rumore dei tuoi passi, si parla di questa storia d'amore tra due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che sono cresciuti in un quartiere molto particolare di Roma, un quartiere povero dove, diciamo, per chi nasce lì è facile alla fine arrivare, prendere una strada che può portare, ad esempio, alla criminalità o alla droga. Quindi, insomma, un quartiere difficile e, appunto, questi due personaggi prendono in realtà, nonostante siano nati nello stesso posto, due vie decisamente diverse grazie al fatto di essere nati, grazie o a causa del fatto di essere nati in due famiglie diverse. Quindi, diciamo, si vede anche quanto conta l'ambiente in cui si nasce, non l'ambiente esterno, ma le persone che ci circondano in quella che poi sarà la nostra vita e come decideremo noi poi di orientarla. Questo libro, insomma, diciamo, mi ha straziato il cuore perché, insomma, è una storia dura e triste. Non dico altro perché se non l'avete letto dovete leggerlo perché è bellissimo e questa è appunto la versione della storia dal punto di vista di Alfredo, il ragazzo protagonista del libro Del rumore dei tuoi passi. Quindi, perché ho paura? Perché, avendo già letto la storia, so che questo libro mi riaprirà una ferita, ecco, diciamo, però sono molto curiosa perché per l'appunto so che Valentina Durbano è speciale, ecco, nel saper delineare questo genere di storie, nel parlare di adolescenza, nel parlare di amore perché anche quello, nonostante sia un argomento molto comune nei libri, bisogna saperlo fare e quindi, insomma, questo titolo mi aspetta anche se devo trovare il momento giusto. Dico soltanto due parole sul quarto libro di questo elenco perché davvero non so niente della trama ma per scelta ho deciso di non leggerla perché non vorrei rovinarmi, diciamo, la sorpresa. Infatti, ciò che mi incuriosisce di questo libro non è tanto il titolo, quindi non è questo libro specifico, ma è l'autrice, Ilaria Tutti. In questo caso, la mia mamma ha Luce della notte, non so se qualcuno di voi l'ha letto, magari mi può consigliare se vale la pena. Perché l'autrice mi incuriosisce? perché è un'autrice italiana di Gialli e io mi ho sentito parlare veramente molto, molto bene e quindi sono curiosa di leggerla perché non ho mai letto niente di questa autrice. Per l'appunto è una scrittrice di Gialli, se non erro dovrebbe esserci la stessa protagonista che è Teresa Battaglia in tutti i suoi volumi, un po' come succede spesso ecco negli scrittori di Gialli di scrivere una serie di libri in cui i protagonisti sono sempre gli stessi che svolgono le indagini ogni volta diverse e anche qui insomma Ilaria Tutti utilizza questa protagonista per parlare insomma di storie di mistero dove c'è qualcosa da svelare. Per l'appunto se avete letto qualcosa di lei fatemi sapere se merita come autrice e visto che la mia mamma ha questo volume penso che inizierò a leggere il mio approccio con questa autrice inizierà da qui. L'ultimo libro che vi mostro è Il Club delle Lettere Segrete. Non vi dirò l'autore anzi il nome dell'autrice perché non so leggere in spagnolo credo che lei sia spagnola sì, nata a Barcellona quindi insomma tanto vi lascio tutti i link qui sotto. Questo in realtà è un titolo che vorrei leggere da tanto semplicemente perché mi ispira moltissimo titolo, copertina e trama. Allora il titolo Club delle Lettere Segrete Club mi ricorda il mio club del libro Lettere Segrete c'è con qualcosa da non lo so da scoprire le lettere sempre amato io la scrittura a mano quindi insomma c'è già tutto quello che mi piace solo nel titolo. La copertina è carinissima anche questa molto nel mio genere e qual è la storia di questo libro la trama di questo libro è che in un piccolo paesino stanno per chiudere l'ufficio postale perché nessuno scrive più lettere ormai è tutto telematico si fa tutto tramite cellulare tramite internet quindi non ci sono più motivi per tenere aperto un ufficio postale la protagonista del libro è l'unica postina del paese che se l'ufficio postale chiuderà sarà costretta chiaramente ad andarsene e lasciando la propria vicina di casa credo fosse comunque una un'ottantenne che è molto legata alla nostra protagonista e che vedrebbe la sua vita stravolta stravolgersi se appunto lei fosse costretta ad andarsene per questo la protagonista che ormai vi dirò il nome perché non mi piace dire la protagonista Sara decide di cercare una soluzione per non far morire questa abitudine no questa abitudine ma questa attività cioè quella di scrivere delle lettere e poi inviarle e quindi decide di scrivere una lettera che diventerà l'inizio di una catena le classiche catene per cui chi riceve la lettera poi ne deve scrivere un'altra e inviarla e così di volta in volta praticamente coinvolgendo sempre più persone e questo porterà a diciamo ricevere delle lettere e a scrivere nuove lettere tanti personaggi molto particolari che si trovano un po' in tutto il mondo quindi insomma è un libro che fa viaggiare e fa viaggiare perché parte da un piccolo paesino ma riesce a collegare persone anche molto lontane tra loro si parla di una realtà che è abbastanza contemporanea che io conosco anche molto bene io vivo in un paese dove non c'è l'ufficio postale non ci sono neppure le scuole dove vivo io o una farmacia perché è veramente piccolissimo e per l'appunto fare questi tipi di attività all'interno del mio paese sarebbe inutile quindi insomma io credo di essere molto in linea ecco con quello che viene raccontato qui e spero un giorno di prendere questo libro no spero lo farò sicuramente prenderò questo libro e me lo leggerò perché è una piccola chicca nella libreria della mia mamma bene ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto a me questa location piace tantissimo quindi potrei valutare l'idea di girare un video ogni volta che sono qui a casa dei miei perché più o meno una volta a settimana ci sono comunque fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri quali vi ispirano di più quali mi consigliate e niente noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao